in questa lezione vedremo come definire le combinazioni di verifica nel nostro modello abbiamo già definito dei casi di carico vediamo che sono stati aggiunti 10 casi di carico alcuni sono permanenti, altri variabili, altri legati al sisma modale in Sargon è possibile definire nello stesso modello fino a 6 insiemi di combinazioni differenti vediamo in basso a destra che ora siamo nell'insieme di combinazioni numero 1 come per l'unità di misura cliccando con i tasti destro e sinistro possiamo posizionarci in un altro insieme per la gestione più avanzata degli insiemi si utilizza il comando edit combinazioni modifica insiemi e qui possiamo cliccare direttamente su un insieme che ci interessa attivare quindi cliccare ok e posizionarci nell'insieme scelto possiamo anche rinominare questi insiemi ad esempio vogliamo rinominare SLV l'insieme numero 1 poi potremo rinominare SLV e ad esempio il secondo insieme e così via in questa lezione utilizzeremo soltanto un insieme quindi utilizziamo il primo SLV clicchiamo ok e vediamo che in basso a destra viene riportata appunto la scritta SLV se definissimo più insiemi di combinazioni potremmo svolgere verifiche separate per l'uno o per l'altro insieme e visualizzare i risultati quindi passando alternativamente un insieme o l'altro ora siamo nell'insieme di combinazioni numero 1 chiamato SLV e vediamo come aggiungere le combinazioni innanzitutto i comandi sotto edit combinazioni che sono aggiunge genera e servono per aggiungere le combinazioni sono disponibili anche tramite un bottone nella barra laterale iniziamo con l'aggiunta manuale di combinazioni in questo dialogo possiamo definire un nome opzionale da associare alla combinazione scegliere il tipo di combinazione ad esempio se lineare, additiva, quindi la modalità standard i casi di carico, gli effetti dei casi di carico elementari che compongono la combinazione verranno sommati linearmente quindi vale per le azioni interne, per gli spostamenti e così via se scegliamo invece somma valori assoluti tutti i casi di carico verranno sommati col valore assoluto positivo oppure negativo poi si può definire una combinazione che sia la radice quadrata della somma dei quadrati dei vari casi di carico range più e range meno fanno in modo che vengano sommati solo i contributi positivi o negativi dei vari casi di carico inviluppo fa in modo che venga considerato il massimo oppure il minimo tra i valori definiti per quella combinazione come detto in questo caso vedremo una combinazione di tipo standard quindi lineare, additiva e dobbiamo definire i moltiplicatori dei vari casi di carico ad esempio potremmo definire una combinazione che contiene il peso proprio amplificato per 1 il caso dei carichi permanenti quindi il caso di carico 2 amplificato per 1 e 3 e ad esempio tutti gli altri casi nulli quindi la combinazione 1 conterrà soltanto peso proprio per 1 e permanenti per 1 e 3 è anche possibile definire combinazioni di combinazioni utilizzando la parte in basso del dialogo ma non entriamo in questa sede nel dettaglio delle combinazioni di combinazioni per le quali si rimanda alla guida del programma clicchiamo ok e aggiungiamo la combinazione definita poi potremo aggiungere un'altra combinazione ad esempio sempre lineare additiva standard con il peso proprio i permanenti e un carico variabile questo è giusto un esempio per far capire come si definiscono le combinazioni clicchiamo ok e quindi abbiamo aggiunto due combinazioni se utilizziamo questo bottone possiamo entrare nel dialogo in cui vengono proposte tutte le combinazioni aggiunte possiamo modificare selezionando quella desiderata e cliccando il bottone modifica possiamo modificare una combinazione adesso vedremo come aggiungere in un colpo solo un certo numero di combinazioni di verifica in modo automatico grazie ad opportuni controlli e parametri e vedremo poi in seguito ancora questo dialogo quando avremo un numero più nutrito di combinazioni si segnala anche che è possibile con il comando edit combinazioni stampa creare un file di testo in cui vengono riepilogate tutte le combinazioni ogni riga del file corrisponde a una combinazione vengono dati il numero, il nome e i fattori moltiplicativi dei vari casi di carico con lo stesso formato si può creare un file esterno e quindi importare le combinazioni e anziché aggiungere manualmente o farle generare si può importare direttamente un file di combinazioni che ha in pratica lo stesso formato di quello stampato dal programma ora azzeriamo tutte le combinazioni quindi eliminiamo tutte le combinazioni con questo bottone e vediamo come generare in modo automatico le combinazioni genera combinazioni a questo bottone innanzitutto in alto a sinistra abbiamo tutti i casi di carico variabili che possono essere inclusi o meno nelle combinazioni spuntandoli oppure non spuntandoli a destra abbiamo i casi di carico per definire le compresenze dei casi quindi quando seleziono un caso di carico nella sezione a fianco avrò tutti i casi di carico variabili tranne quello selezionato che chiaramente è per forza di cose incompresente con se stesso è anche possibile cambiare il segno del caso di carico selezionato quindi se ho definito un vento più x potrò poi spuntare la casella cambia segno e considererò anche il vento meno x con i bottoni tutti e nessuno attivo o disattivo tutte le spunte ad esempio posso attivare tutti i casi di carico supponiamo che voglio definire un insieme di combinazioni in cui il sisma non sia momentaneamente presente perché voglio studiare i suoi effetti in seguito e disattivo i due casi sismici supponiamo poi che voglia cambiare appunto il segno ai casi di vento quindi seleziono vento più x cambio segno vento più y cambio segno poi vorrò che il caso termico più 25 gradi centigradi non sia compresente con il caso termico meno 25 gradi centimetri quindi mi posiziono nella casella selezionando nella sezione di sinistra il caso di carico 7 e corrispondentemente tolgo la spunta nella sezione di destra al caso di carico 8 quindi più 25 meno 25 non sono compresenti per avere una matrice di compresenza simmetrica devo posizionarmi anche nel caso 8 e fare l'inverso quindi meno 25 gradi centigradi non compresente con più 25 gradi centigradi analogamente potrei fare in modo che quando c'è la neve non ci sia il caso di carico termico positivo e così via in questo modo abbiamo definito quali casi includere nelle combinazioni e come considerare le compresenze tra i vari casi nella parte centrale del dialogo poi possiamo definire i coefficienti gamma possiamo introdurre dei valori manualmente oppure utilizzare questi bottoni per fare in modo di definire automaticamente dei gamma in base agli stati limite desiderati in ogni caso se dobbiamo lavorare anche con una normativa diversa dalle quali italiane o dell'euro codice possiamo introdurre direttamente i valori dei gamma in queste caselle possiamo poi considerare sia i valori superiori che inferiori delle combinazioni oppure soltanto quelli superiori a favore di sicurezza bisognerebbe considerare sempre sia i valori inferiori che quelli superiori perché non è detto che sia per i casi permanenti che per quelli variabili i limiti inferiori diano luogo a azioni più severe ad esempio per una platea di fondazione non considerare il valore inferiore potrebbe dare luogo a un'azione stabilizzante che non massimizza la sollecitazione di determinati elementi oppure delle reazioni vincolari se però non voglio includere i valori inferiori posso rimuovere la spunta con questo bottone stima quante combinazioni varrebbero create mi viene fornita una stima senza l'effettiva creazione delle combinazioni e vediamo che in questo caso sarebbero indagate 721 combinazioni poi il programma automaticamente trova quelle uguali e in pratica sarebbero 424 combinazioni aggiunte al nostro modello se clicco genera stati limite verranno aggiunte esattamente quelle 424 combinazioni è anche possibile generare le combinazioni alle tensioni ammissibili in questo caso clicchiamo genera ok se torniamo nel dialogo di interrogazione delle combinazioni vediamo che adesso abbiamo le 424 combinazioni definite in modo automatico e possiamo attivarle tutte quindi includere tutte negli inviluppi nelle verifiche automatiche e così via in questo caso quindi potrebbe essere utile se vogliamo posizionarci ad esempio nella combinazione 204 farlo direttamente da questo dialogo quindi selezionare la combinazione e cliccare ok se volessimo selezionare o deselezionare particolari combinazioni potremmo farlo o cliccando direttamente le caselle quindi aggiungendo rimuovendo le spunte oppure selezionare soltanto le combinazioni incluse in un certo intervallo di valori oppure invertire la selezione con il bottone nega attuale facendo in modo che quelle correntemente selezionate vengano deselezionate e viceversa